di risponderle. Prego, signor Ministro. Grazie, Presidente. Come evidenziato nelle premesse dell'atto dall'onorevole interrogante, la Camera dei Deputati ha approvato l'ordine del giorno numero 2845A, con il quale si inteso impegnare il Governo a procrastinare la data del 30 giugno 2021 l'esecuzione delle procedure di recupero degli alloggi di servizio nei confronti di conduttori di cui l'articolo 306 del Decreto Legislativo 66 del 2010. L'indirizzo espresso dal Parlamento è finalizzato a prevenire condizioni di emergenza abitativa derivanti dalle criticità sociosanitarie causate dal protrasse della pandemia. Appare necessario in questa sede enunciare seppure per sommi capi gli articoli di interesse per una migliore comprensione dei fatti, nonché per avere un quadro di riferimento normativo, certo. Nel caso oggi di discussione, infatti, occorre precisare che la norma chiave è l'articolo 286,3 del Decreto Legislativo 66, che stabilisce relativamente alle categorie degli utenti non avendo titolo alla concessione dell'alloggio, cioè i cosiddetti sine titolo non protetti, un generale obbligo di rilascio pur consentendo all'amministrazione la facoltà di concedere prorogo temporanea secondo le modalità definite con il regolamento. In questo ambito, altra norma di interesse è l'articolo 333 del Testo Unico dell'Ordinamento Militare, che relativamente alla tempistica degli alloggi condotti da utenti sine titolo non protetti, non prevede che la data di rilascio sia predeterminata per legge. In buona sostanza, da quanto esposto, è la stessa legge a prevedere la possibilità per l'amministrazione di concedere proroghe ancorché dettate da condizioni di eccezionalità, quali quelle appunto riconducibili all'attuale fase di emergenza pandemica. Fatto questo doveroso inquadramento giuridico, per quel che riguarda il merito del quesito posto, in considerazione della chiarezza del dettato normativo, tenuto conto altresì dell'orientamento espresso dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 febbraio citata, attraverso l'approvazione dell'Ordine del Giorno, e considerato altresì che la particolarità delle norme di settore assegna alle Forze Armate un'esclusiva e diretta competenza in materia, ho già trasmesso le opportune direttive agli Stati Maggiori di Forza Armata, impegnandoli ad effettuare una approfondita valutazione dei casi che possano rientrare nell'emergenza sociosanitaria di cui trattasi, prevedendo la prorga fino al 30 giugno 2021 degli atti di recupero forzoso degli alloggi di servizio, in piena attuazione di quanto stabilito dal Parlamento. La ringrazio, signor Ministro. A facoltà di replicare il deputato Andrea Frailis. Prego. Grazie, Presidente. Grazie, signor Ministro. Io mi ritengo soddisfatto della sua risposta. Vorrei aggiungere una...